a noi non succederà mai abbiamo già i piani di emergenza conosciamo tutti i rischi più probabili nessuno può prevedere come e quando la crisi ci coglie sempre di sorpresa ed ha sempre un costo il 25 per cento delle organizzazioni non riapre dopo una catastrofe l'ottanta per cento delle attività rischia di uscire dal mercato come conseguenza di una crisi il 75 per cento delle società senza un programma di continuità operativa fallisce entro tre anni da un disastro ma la crisi se gestita correttamente è un'opportunità di miglioramento perché sapersi muovere al buio significa conoscere alla perfezione il proprio ambiente e poter continuare a operare anche dopo un evento critico Pantarei vi prepara a guardare al futuro anche nei momenti di crisi Grazie 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 Grazie.